ok gindobre a tutti gente iniziamo con la prima sessione polacca di stefania sempre dobre piaccia stessi apposca stefani abbiamo seguito i punti di dorota e ci accompagno da contando da 5 a 1 a connetterti più in profondità a dorota un cedro teo slam e trasporta stefania starota 5 4 3 2 dimmi come la vedi povera mia che è un video dorota la vedo in germania vita trotta finita la vedo con un cappello quelli invernali che coprano anche un po le orecchie di tilana insomma la vita che ci si muove ectora sacrava taxa uscia e la vedo come un uomo io sono stasno che sta camminando per questa questa città che è sicuramente tedesca migliorare poi dicevo un po c'è sto miasto a crescita per nomi a stanni mezchi e posso proprio dire che è il tempo della seconda guerra mondiale comunque precedente io sto crescita che fai ok ti dà l'autorizzazione se la diet e posso farla anni anastasi attacco ok partiamo subito e vediamo se questa è la vita in cui dorota inizia ha sognato tante volte di essere un capo o addirittura un capo all'interno di un campo di concentramento e nello spunto fare da rotte che non portava bussen di accoglietti con testa signora a capo lo becchia stanza è un segno ricorrente che ha fatto dai quattro ai dieci anni parecchie volte c'è stata una sana se portata so che poi c'è schermo già la strada c'è c'è stato fatto sì allora fa parte delle delle ss non è all'interno di un campo non è tra i prigionieri non è stato eletto diciamo tra i prigionieri mister tempo voce concentrazione misti e non si 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 ma la giunta verso al compito di girare per i campi che guida proprio gli esperimenti guida i laboratori cosa danni mi ha fatto una bocca controllo che tanti scotto di ricerca collaboratoria uomo donna e uomo yes master snow come si chiama jackman ai miei sento frederick 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 e alto su più o meno 1 75 1 e 78 e con giostra come scelta in gioccia e longilino è molto in questa vita è molto arrabbiato molto mi viene da dire cattivo ma molto arrabbiato e non ha rimorso io sto guardo scopo evita sullata mi ha sbattato a che c'è quella che veniamo ok quanti anni ha e la malatta può averne dai 37 e 40 bocca 8 di sti c'è tanto tardi stilato vedo che ha due figli a casa due figli maschi ma anche una moglie ora sono vedo che non vedo che a casa c'è anche un papà suo padre che è malato problemi salute e vive spesso a casa con loro invitata la stanza mando a moestrone a cieco oicettore ma problemi ok vai a un momento importante della vita di frederick vedo la malattia del figlio nel figlio più grande fezzaro pausta costana e successiva l'immagine che ho visto per cui si manifesta all'incirca dieci anni dopo della visione che ho e tacco roba questa manifesto riesce da più e rosa di scienziata riscaldante fisico tra si trova quello che anche sviluppa che che ha che gli viene è un è come una leucemia fulminante tacco roba attora città poi avevuta cos'è ma c'è anche di senso la test partita costra torna via vacca vai alla fine vita di frederick tauta e c'è tra sda con sarre c'è con una stessa sì ci sono cosa avviene ma c'è c'è si uccide si spara usabile uscire usapia scolati che hanno è 3 troppo il vedo nel 1947 tecnici e venti a tutti tutti questi giorni quindi la guerra è persa e lui si uccide perché non vuole farsi catturare c'è l'evo in ascesa contro io sono visto faboni che c'è con i sconsa francesi l'ex vano no lui era riuscito a nascondersi lui si uccide per quello che ha visto miei e muta voce un crunch tampo voglia la sabbia rimorso c'è la fine patrice fino ok è in germania quando si uccide la sabbia uscire pantone tornata sì ecco ok chiamiamo i due figli di dorota e li mettiamo nel cinema tutta la sabbia c'è da nascia con chi non puoi casano tarota ci sono saperi i due figli o uno dei due figli era nella vita di frederick c'è c'è mi viene da dire che uno era un paziente gli etans negli pazienta un ragazzo giovane nuovamente copacchia e il figlio malato di leucemia no no oggi attacostano a fare con la nuova allora mi chiesto se fosse uno dei due se i figli di dorota sono facevano parte di quella vita uno dei due figli di dorota faceva parte della vita di frederick come persona all'interno di un campo del campo lo paziente tante moglie nel spazio tema bosch concentrati e posso aggiungere una cosa che era un ragazzo giovane nella vita di frederick era un ragazzo che era lì nel campo a cui hanno fatto delle prove fisiche ed è un modo un copacchia ma poi c'è concentrati nella vita amore una testa dico c'è la fisica c'è la prova tano per i menti esperimenti esperimento è rimasto in vita poi dopo io un po tempo sa giunta no boss ma è stato uno dei motivi insieme alla malattia del figlio malato per cui si è ucciso itan copac ma bocetta boia d'anno spavoto l'attore con frederick potamici a sabbio rovinas trocente che un po fa tanto abbia vato fai con questa cosa no il figlio malato di frederick è nella vita di dorota faccia tanta una corina piavaccia senza triscia io sto facendo gioco da notte mi viene da dire che il padre di dorota poi a femmici informati al solato che sto ricette da rotta e vivo si registrava poi in azione della tapps tecnico no sono morti entrambi a sono morti però la chiama lo zio come primo se però poi ha detto se fosse vera però che strano che chiami lo zio è un padre taccato fa callucci a saccola che siamo ai suoi cani per secolo i nostri anni rogizzov ha trovato se ci può scrivere in skype perché ha chiamato lo zio in polacco poi tu lo leggi e lo traduce c'è modo sono appissati nata c'è tutta in asia l'atta covasi e voi caccia vassi anni a rogizzov estimo sma metà tutta mesi poi avrino tutta la tua dita lo vedi come fumetto non devi aprire la ciotola lo vedi ok molto prima ralassi mi ha già fai un cofo smitha tuccia c'erini a franco oh luce sì sì no no stiamo aspettando aspetta aspetta ok si non ti sentiva più intanto magari fammi quella cosa che avevo chiesto sì ti dico ti dico solo una cosa io vedo che quel padre c'è stato un rapporto molto difficile non so se la risposta che l'ha lasciata l'appartamento non riesce ad averlo ok e traduce che ha avuto un rapporto molto difficile stefani approfittava la vita da rata salita mia macchina scherzo c'era lazio ok cioè il padre gli ha lasciato un appartamento polonia io zio lo zio a scusa scusa e eleno riesce ad averlo se c'è qualche problema non riesce ok con il padre dici stefania un rapporto conflittuale gli agli conflitto stato da rotte stefania vc dice di sì no ok 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 allora più o meno vibrazione di dorota vediamo da terra tra i pranzi e comoda rota allora vedo 80 miliardi o 100 miliardo percentuale di consapevolezza però tanto si fata mostri 100 per cento poi ci fata mostri sta però tanto psp e dorsai ciao a terra cina dorsai torna fa caiacato test 70 la ps 30 la p e dorsasci e tanti santo però tanti suggeriti doc vite precedenti rito passo da rota 1700 per centuale di cervello e pro tanto usa vanna gamos con 5,5 chi euro da p č cina che piante protanto dotat e interferito altre diferenze ciò da rota ma interferanza si tratta però vedo un felino ed tac哦 ok Roger intervenzzi falino i triangular vedo dei militari vittima voice cover anche che passano attraverso i felino di riuscita interferenza poi scopo che già può fare noi poi vedo un rettigliano vita italiana adesso vedo un anche le sembra un anfibio non feria non si vede ea che c'è tra cina anfibio e casposta ci sono esseri di luce c'è stata scritta 2 da via ok entità mentali è stata mentana allora ne vedo una che viaggia dal 2 livello 2 a livello 4 gli esterni è stata mental no io non spegna poi c'è un mientro che ha fatto e ne vedo un'altra questo è livello 3 gli stai 9 strumentano spaccia molto cieco che vediamo cosa basta si fanno queste entità mentali interazione a papà tuoi a un testo da mentana allora quella che vada a livello 2 a livello 4 agisce così da sposiamo tratta messa c'è mezzo trochi ma fartemi già spostando stampo e onza e come se lei ogni tanto le prenda una paura inspiegabile che lei non si spiega o tra sotto caso poi avesse unita che neve a signore stra con ogni risconda ci piaccia che la paura di fare del male agli altri est stracca giugna mine come se anche se la collazione del momento magari è contraria e magari sta aiutando qualcuno sta cercando di aiutare qualcuno le viene come un pensiero come un un'immagine a volte o la paura che se non fa quell'azione lì di aiutare potrebbe fare fare del male di casa ministra città 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 è come se delle volte le si impegnasse a fare del bene aiutare qualcuno per evitare di danneggiarlo o di mettere in atto quello che è il pensiero che gli è venuto in quel momento e casami starà città bardo ci starà unico non c'è cotta un paese di cuore tutta messa siamo sotto ma fa pesco certi ci sono impianti ci sono impianti auto rotte allora c'è un impianto sono fede a livello del seno destro ci si sei stefania si no hai disattivato microfono scusate ok sentite siano destra io ho un titolo destro ieri ma in plant grave ai pierci a metà del seno destro quindi non davanti non dietro ma a metà all'interno e questo entrano i traistiani in esodo anni in estetico vaste non c'è la corte poi ce n'è un altro a livello della tiroide gli ascoli in in planta naposia un'etarca lucio puoi chiedere a dorota se mette la mano dove nella parte che nomino cioè se ogni volta che nominiamo un impianto in un punto lei può fare mettere la mano tacchetta caposipata la tasa come in cittadini anni in plant ministro quadro a campo on the moment c'è tutta femmina stefania ok la aiuta a connettersi meglio la famosa stefania ponte mi aiuta anche a creare un ponte rafforzato tra il corpo eterico e il corpo fisico e lei ha la possibilità di sentire meglio subito dice abbiata che mosca mente c'è amata regina mi fisa c'è una mita foto e alla cia ponte anni è stata ha messo la mano sulla sala adesso che sul seno poi sulla tiroide di traslava colizia tarca a livello della mascella quindi lo zigomo sinistro e fa colizia totale politica e prova che comprende anche la sinistra sinistra che comprende anche l'arco dei denti sopra rovnias città un corno con notte in tempo fa e muoia rovnias e poi l'anca sinistra ora piotra o sottone prossima la campioccia chi ha messo questi impianti statamo misti ote in plant allora lo vedo che è una parte la parte superiore l'ha messa l'anfibioide gli sti cogi augurna un trance città è stata santa e ragine anfibioido e invece quello dell'anca l'ha messo il il martelliano ha esce oggi o donna un testo rateri anni ok nome del progetto di dorota gli a caesnaz da proietto sattori siano tanto strato la io leggo drop d r o p troppo trascinare no dottare giù torre giù un meleco far cadere a trascinare hanno a buttare giù drag e trascinare drag and drop quindi la fanno cadere la buttano giù oppure può essere anche una goccia d'acqua ma io vedo quando avete detto anche goccia vedo collegato no al sangue troppo vegeta la stota e proprio sani e scopriamo che non si può fare c'è la sua propria voce niente ho fatto la stafania va bene vediamo la causa esoterica della attuale menopausa e non so gli anni di dorota insolita la sua menopausa terra spiore messe meno pause c'è la taft ora in norma nella pausa testa in poi a paolo c'è niente a fare i cosi ecco se siamo non c'è la facciata 70 allora io vedo che all'immagine che mi arriva l'immagine di una donna di una donna anziana poi avviene poi avviene opra star c'è copia te l'immagine di una donna anziana che vedo che le 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 parla il fit è stata copiata da ogni movie è come se le suggerisse di di non ti non avere dei cinti non avere molti figli ripete questo messaggio il rispetto al procreare it a copia tag su carui adoro c'è questa cianco di shop tau a beve torata animiamo agici che non trovava potenza non capisco chi è questa donna anziana chi mi sta stascia copietà e come se fosse una donna che lei ha già incontrato ma l'ha incontrata sul piano eterico tacco pietà da rota spattaccavata un copiato e lo schede sarà l'appoggiamento e come se fosse mi viene da dire che in un'entità però potrebbe essere anche tipo una dl mostro da soccati tutte le cose stotte a becci mossa è stata ciclistata un suo patco dorota è come se in eterico avesse questo messaggio di smettere di di che sul sistema ormonale deve cambiare deve cambiare cioè doveva cambiare c'è stato un cambio ormonale è mai stato collegato a questi incontri in eterico comunque questa con questo dl questa che ha creato come dire un movimento a livello ormonale del corpo c'è creato come una frequenza da capetta spot cani a tempo c'è mettere una vita adesso questi con la tampa tagliano sostegni stotte e abbiamo vivo e c'è un cosmi anni ea che scena passiamo mia hormonal uta rotta va bene causa esoterica dell'anemia c'è nella sottoreccia anemi e perdite di sangue e favenna favenna questo è legato lo vede legato al progetto le partite di sangue e l'anemia vita tagliato proiettano cromofilici non troppo anche legato e come se in particolare si manifestasse quella parte la parte dell'anemia delle partite di sangue quando ha un calo vibrazionale tanto fa probleme poi avevamo c'è un istaco nevo man check the parto spada e i vibrati attualità quando i miei tocco fa viene in particolare quando ha una situazione azione e pensati di non poter far nulla sta con il nesta che statevate anche da una messe gianni e sta negli trovi c ok e stefania che cos'è a livello simbolico con il livello di archetipo cos'è il sangue all'interno della matrix è trasta che per tania c'è mi è stacca una pagina a te pof posa matrix a mente usci il sangue lo vedo come come la vita a livello di archetipo una pagina archetipo soffizia crea cosa c'è cioè cioè come se attraverso una goccia di sangue si potesse creare una vita tazza giusta che come pop s croplac si morna pepe uoze crovas non faccia alcune cita lo fanno in ectora istateta robia alcune entità attraverso la goccia di sangue stringono degli accordi in ectora istate pop s croplac si esagerai un pact è come se dal sangue strappo lassero l'essenza della persona tag per stake c'è un carico e c'è un cavo e tagli state essenze tra i doni a sopra perché alcuni animali si mutono di sangue come i pipistrelli i vampiri l'attacone che presa di uscanta la giaccia c'è una ps4 totesimo fa o mi ha topeggio anche vampira ma vedo che all'interno del sangue per i pipistrelli ad esempio c'è è come se ci fosse una parte all'interno del sangue che loro interessa non tutto il sangue come fosse la parte la parte del partire una componente del sangue spaventare sapato con il top toccato intera sui avevano scritto con gli atti gli italiani squattica questo concorso i natali città i crifini quale ora concorso per i pipistrelli o per i vampiri cioè è come se i pipistrelli si nutrissero di una parte all'interno che fosse una tipo una vitamina una l'opera non riesco a vedere il nome c'è sostanzia nesta nesta finita seconda che accorbe così vitamina tampo più rava testa che consorzano va bene non importa causa esoterica di problemi alle articolazioni di mani e ginocchio problema se stava mi ha avuto rotte stico di orenza e colana allora questa è una parte sempre legata al progetto di nuovo del non riuscire a stare su del sentirsi del sentirsi cadere nel sentirsi tirata giù ma in particolare quella delle ginocchia la vedo collegata a dunque una cosa legata a uno dei due dl aspetta aspetta scusate ma trasforma ex term proiettente che con la ciancola che stanno patava un po gemi evitata giamata se chiusa ma si sta famiglia di sistemi e come se da quello che l'immagine che vedo c'è stato un momento della sua vita in cui è venuta a contatto con una credenza una religione in particolare e vedo che è durata qualche anno quattro cinque anni evitata o cresta che faccio da rotte che c'è far soft contact si è conosciuto lì che non sa che mi si chiamiamo e come fosse proprio il discorso delle ginocchia collegato a al doversi al forzarla ad inginocchiarsi it and problems con la nami dot cova vita teleco posta io smuscia da padavano anna colana parte chi inginocchia si per pregare davanti a questa credenza che religiosa che ha che aveva incontrato il movimento totalizzato è stato inviagno terli che tratta casa i modi c'è stata un clenco ok orecchi tappate causa esoterica se ce n'è usata regina sat cane cuscio allora qua ci vedo il come diciamo che una forzatura legata al fatto di non sentire chiaramente quello che arriva dall'esterno ma essere solo molto concentrata con invece quello che pensa lei quello che vive lei ma tosseo s'ex teme per una fama che si può uscire ad ottenere con gli e teni a terco concentrato facciata una strada con la nostra in fronte su mesi e come se ci fosse un filtro proprio due filtri uno per orecchio che non le permette di diciamo non vogliono permetterle di avere messaggi chiari dall'esterno e quindi di cambiare anche idea sulle cose per capire adva filtro e fursa mi posso fare un certo c'era toni informati c'era vado nei per negrotta io sacco mania c'è messa tante che ci stavano situati giaccio e questa parte dell'orecchia e la vedo legata a militare in discorso dei militari idrotto vota il problema social mi invitato thais sciata un po iscova sovrappeso problema svago il sovrappeso lo vedo collegato al discorso della del cambio del cambio vibrazionale quando praticamente lei va giù di vibrazione c'è questo cambio di sistema ripeto la frase mi spiego meglio allora il momento in cui c'è stata questa questo messaggio della parte ormonale di cambio vibrazionale questa parte cui è andata anche ad incidere sul discorso del peso per cui è come se aspetta aspetta una tasca tecnica fatto nel mio sogno in vibrazione che stanno smiando una pagina hormonal e come se lei trattene e aspetto le trattenessero ma in parte ripeti ripeti perché nota via la voce e come se trattenesse e come se le sue cellule avessero facessero l'effetto di trattenere ma soprattutto acqua vedo che c'è molta acqua e tacca la pagina che c'è tanto stacca c'è per i comorchi che ci hanno esatto come faceva va bene anche se lo facciamo adesso lo potevamo fare all'inizio chiamiamo i due figli nel cinema la prima da chi la nostra cosa se l'olta rota ma i figli erano già entrati nel cinema e quando erano entrati io li ho visti che si abbracciavano cioè che sono entrati abbracciati sennò che io sversi trascinando da chi mai di tamperi che dice avanti o bai ma fallisce ci sono solo loro sono tante coni vedo che ci sono dei cugini dei figli dei cugini già sono cose gni ora da rotta ora si s9 per cosa ok li lasciamo lì chiamiamo i disincarnati allora lo zio e i genitori e tutti quelli che vogliono venire dei parenti di dorota anche quelli che non conosce cosa sta fanno alla sette tanti sono finita si resta raggine schini tra svaro ai me smarrò che passiva da rotatori voica i rocci soffie ora staccolta che sta in barcciata un po la fitch sì ci sono ci sono alcuni stanno arrivando tac per stare c'è stato poi lo zio e prima prima di tutti ci sono i genitori dietro cos'anni ma sono raggizzata rota poi vedo dei dei suoi antenati di vita che c'è una coppia da rota ma poi vedo anche che si è affacciato vedo anche suo figlio c'è il figlio di di frederich quindi era un figlio nel 47 e non ha fatto in tempo a reincarnarsi allora il figlio del 47 e il padre di dorota però ci sono tutte e due in una manifestazione sono tutte e due lì poverissima facciata ora non abbia fatto che senti triccia test oi c'è tutta cosa c'è da rota alla tax o casa o porta che manifestazione ok messaggio dello zio in generale e in riferimento anche all'appartamento che lei non riesce a conseguire ad avere e tra secca si veda mangiato voi ha da rotta i rovni a scoste mia scania un'anima usata la stanza data come scania da staccia allora sta dicendo lo zio dice che è felice di vederla prima di tutto sottosso scrittano voi movimenti sbarca ostensi che sono vici che lui ha finora seguito quello che hanno fatto i suoi figli ci ha visto quello che hanno fatto i suoi figli italiana sono scelta uscite a moda tipo riuscita mozzarabili ieri se novia che ne è molto felice che vede che mi dice così come che sono più che sono maturi ma che sono responsabili e poi mi sta dicendo una cosa sulla casa e dice che c'è un problema rispetto alla casa che però per essere risolto deve essere seguito da me lo spiega ma potrebbe essere un geometra potrebbe essere proprio un tecnico perché come se ti faccio dire il tico geodontamo viaggiata il problema ma c'è la stanza ne ha la tampa tra lecchia che si fa avete che il tecnico c'è anche un problema di misura che non corrispondono con con come posso dirla con la foto la planimetria quindi c'è da sistemare una parte proprio tecnica tanto oggi apporto la zona che stessi tecnici ma che si fermiare il sogno di casa è uscita da plano vita ma che si fa cofizzo che ho tentato si coppa cofano se fa pove niente a una statrice science che quando lui ha pensato di lasciarle la casa e che è un messo a volte ma per tentare la casa l'ha pensata proprio per lei perché lì ha pensato che potesse anche essere felice ciao cosa sta ricevo cosa ma capisci una stessa o che le servisse per raggiungere i suoi obiettivi dei suoi sogni al bosco è morto tanto mi posso scegliere per essere riservata la sfogliata la sfoglia masagna però mi dice che sarà così il mio figlio tag factor 6 stagna il padre e la madre lasciano un messaggio ha raggiunto la tasca staglia mi consigliato mostro allora intanto vedo che fisicamente il padre di questa vita e il figlio di quella vita è come se si fossero uniti in uno stesso corpo diciamo e tra svizzera te noi c'è trotte i tanti se ne faranno abbiavato capito non siamo postati a terra sapere un po stagio la mamma è sempre stata molto vicino al padre in questa è quello che vedo sempre molto come se il padre la dovesse guidare diciamo il video e ma marta non so c'è bua bar da brisco ho ritratto rotata che capirete noi c'è stata rotta e muciata mia mamma cosciente che spesso provate ci è il papà che parla e dice che che lo sa che lui e lei non si è sentita completamente capita da lui il trasporto ma fiatato movie sono via usata rata ogni tua scopo faccio rosomiano e che il suo modo di essere anche a volte duro e torsia cota che su rove sposa cia beccia voleva solo essere un aiuto una spinta perché diventasse forte o ne ho scuso c'è da nipota però tappo tempo a scelma però sconosci il nuovo sopra anche se adesso ho capito che non era quello il modo giusto per lei alla trassi una croso mi ha già togne vota quanta dopo sposo nato pacco trotto che le dice che le manda un bacio che l'abbraccia il movimento la poteva e buccia cai pciato la io la mamma è d'accordo su tutto e fa solo così con la testa fa sì con la testa come mamma su casa c'è stato scritto neanche fa cuore ciò tacque ok dobbiamo portare auro li invitiamo tutti ad andare lì se vogliono sia i tre principali che tutti gli altri tot for matera sotto e porta al class marro e ricca con le tancaramo satanico fai sto entrando cosa entrando come se si unissero con la luce e per quanta tutta che si fa da un sponcio rischia stessi e mentre c'è il portale auro aperto vedo che stanno arrivando e stanno passando molte altre anime e testa non c'è stato importato a misto nata la parte vita per fa parte fiera in nord uscita sta vedo che sono le anime di persone che frederich aveva conosciuto e aveva conosciuto nel campo del concetto al mento frederich snota la voce a concentrazione che ha ucciso la sua peccatura è un sapio su cui ha permesso degli esperimenti non posso fare la faccia però fatta non ogni fa experiment lui non ha mai ucciso nessuno direttamente però non ha fermato diciamo quello che stava succedendo ma non sapesse nico con gli esabili da spazio e cortezze se poi il mio corpo non c'è il mio mirale va bene chiudiamo il portale quando sono entrati tutti da questa stanza e da un portato sono passati si è chiuso o si ha scritto mi ha uscito me come san calista ok causa e tutti ricca dei sogni con un abuso sessuale e cola in e ponta rotes non ho nato lo sexo allora io vedo che c'è proprio un una come fosse una anima un'entità che che la e la disturba di notte fidetta mia con si porta c'è come si sta tratta ma sacco 6 poco il fioccio sì c'è una persona un'entità che dice si mostra in molti modi diversi e ma che le fa capire che sempre la stessa e tu non la torna torna attacca della tamo vivote i postaci che tra la stessa è stata una modifica di c'è un glosman e quattro fascia che dna possiede via che te la matata è stata e vedo che un disincarnato questa la vita c'è stato cosa per smart way niente portale via la porta lì in post per me si deve approfittare del portale aurora ma come lo abbiamo chiuso ma che abbiamo caso e sapete un sguardo solo chi era in vita uno stupratore non sa passi a tenere trattato per usare c'è stato perché si fa un ciccio e ma invita e li piacevano i bambini tra un pedofilo non attacca la foto pavamo se c'è c'è un voto pedofilo infatti lei l'ha incontrato quando era in vita tarota spot cavaco che devono essersi quando era piccola ma non l'ha incontrato questo uomo era in vita quando l'era piccola e lei l'ha incontrato ma lei era in compagnia per cui lui non non ha fatto nulla una porta di che scambi decota un spot cava alla porta del tavolo cieca cosci in una cosa pensa un disinternato via vera mettiamo scusa luce portale qualunque neanche cose che porta ogni cosa si taccherà quindi da dorota non posso quanto si è attarato controlla mi gli impianti di al seno quelli insomma per così chirurgia di chirurgia estetica è stata fiesta c'è una implanta come si va da rota entrambi entrambi i seni sì ma si vedeva che uno è disturbato dall'impianto al seno destro che ho visto prima tacca la prova tra vai piaci da potermi in planta con l'amore di ciascuno e vedo che sono col come posso dire sono entrambi i seni sono a posto quello di destra infastidito dall'impianto che c'è nel seno destro la metà fita jack o petri pierce per ok ad annettata che pra papiere si fa sinistra bussana tanta situata temi in planta ma che roma finis ma ma che diciamo che il fastidio ce l'ha in particolare da quando ha il discorso della della menopausa alla tempra abbiamo un cuore tutto esce poi avevo un certo tanto trovo certa menopausa ok infine causa esoterica della paura dell'acqua e te la faccio coci ma da colina con punto straccia foto io vedo l'immagine allora mi collega l'immagine che ha raccontato prima di quando è caduta nell'acqua terra svolta c'è stata un fisico di troppo che tavolo si è piaciuto più vedo che quando lei caduta nell'acqua da piccola non è caduta entrata nell'acqua ma esatto quando è entrata nell'acqua e poi sprofondata quando è sprofondata è come se fosse stata tirata giù per un piede vedo il tasto ma chiede una manca fatava già porti cosa faccia un cano ha provato un sostanzio per toffizia un po staccia con storia non c'è un cosa stop vedo come qua io ci vedo un infibio un anfibioide un vettacone figlio vita che ha proprio interagito sulla sua parte fisica cioè tirando laggiù interferova si è il motivo per cui ha paura dell'acqua e che ha il ricordo di questo essere che la tirava giù e lo collega all'acqua e tatel straccia foto autonistica nel fascino è stato a una testa che abbiamo già sfondo ma poi c'è messo a domani ok c'è qualche residuo energetico di quell'episodio persona che sposa stavo sti in arcata c'è una po tanta nota sogno sì dire di sì e comunque in una parte del cervello c'è proprio un ricordo profondo che non emerge ancora di quella parte che ho detto e anche sul piano sul piano energetico è rimasta una traccia tag video c'è che sta miscelata roma famoso con fisica nante con spagnia troppo ciasc che i ters una pagina energetica non sono scelata tacco va bene come vedi dorota cosa vuole fare e attrazione è pronta e tono art tra pc la dorota guarda mi sta portando mi sta portando facendo vedere un posto e terrasa la casa per la ministra croccia mi può casa che in realtà era un posto della vita di frederich io sto mi stascia frederich e sta aprendo le porte di questi campi otterrata ma boccia sta liberando tutti e uvania tra sascia scritta in modo che sia tutto vuoto tutto vuoto non c'è più nessuno adesso in terrasse terrasse animata amico con il stampo stop c'è stato voglienico ciava troppo a casa ma sono tutti disincarnati l'abbiamo già fatto questo lei mi spiega che non è tanto una cosa fisica per lei era importante toglierlo c'è il fatto di aprire le porte non ha tanto una valenza un'importanza come dal punto di vista pratico perché sono già non c'è più nessuno lì all'interno ma che questa cosa ben d'aspetto in tac fa tecnico giotto per otta che tra cittadini arte copa fa che ci non stavano stavano già stavano però faccia un'arte esplani e sa mai tacchietta chi act ma che questa cosa ha lasciato anche in questa vita una traccia molto profonda e i rovetto poi nevasse tanta se trovati a farzo che fa un po che è stato stati warney e lei non ha potuto farlo come frederich ma ha voluto farlo come dorota e poi andiamo a quattro cosa la piccola tema stasman è andata con ciava tutta ita troppi c'è almeno in modo simbolico per liberarsi totalmente da questo ricordo sono inietà che simbolici ne sposto proprio stacoviccio voli ci siamo tante trauma ok benissimo prima di andare al cluster con dorota guardiamo velocemente la scintilla la polonia che salva il mondo tutta la testa san e poi chiamata castra è un argomento molto in voga in questo momento si polacchi pensano di avere quella marcia in più che permetterà al mondo di uscire da questa situazione in cui ci troviamo polazzo messa un parto riant covi sotto questioni curato e uscita ma allora io sopra la sopra la polonia vedo una rete energetica forte cioè vita not post con che anche proprio legata questa credenza stanno facendo parte c'è ne proviamo dalla stessa con anni entità mentale collettiva è stata mentale con l'interno si dire di sì tac ok c'è anche per i romeni questa è tale io stacca è stata padone sti faccio romano no ma ce n'è un'altra per i romeni la logist romani in oscola istota mentale quale ea captura che dice che come se fossero imbattibili museo non sarebbe ogni po con anni c'è la sensibilità mentale per l'italia uochi aiut e calci stata mentana da fuoco che la polonia o che la romania gli altri dall'italia la voci in italia ma è detto c'è la stessa rispetto alla mentale collettiva a una in italia salverà il mondo e si cogeva fuoco testa quadriata sa mai stata mentale nato sposta voci sbagliati no 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 non ce la vedo andiamo ok ma va bene niente con la villa quindi probabilmente il percorso personale come sempre nessuno salva nessuno ognuno salva se stesso nessun paese salva il mondo nixonico con ex percorso personale si è stato cercando che doveva una costa cosa andiamo al cluster e seguiamo dorota tauta invece tratta castra potono santa rota sì ci siamo gli aspettiamo sarò p lo vedo come come fosse uno di quei negozi un po antichi che hanno tanti cassettini come quei negozi di una volta le farmacie di una volta che erano diciamo quelle che ho presentato in legno con tanti cassettini con dentro le erbe che i prodotti un figlio stena sta messa poi c'è nepposte come neanche a comunità fno up the case della finale meta che mi soffa da mi e lei sta guardando in molti cassetti così io non sa che l'onda tanto russo sofflato sì un po perché curiosa di vedere cosa c'è dentro è un po per cercare contratti prestavo poi cercavo stancazza di sacro lontana c'è stato appaniero stavano state a contratto adesso sta tirando via tutto che c'è anche a trascosta che non interessa cercare dove sono i contratti ma non interessa a puntare via tutto ma visioni interessa ogni interesse io cani al contratto posta con una chiede nella torta trova faccio che c'è scappa c'è fisca via tutto scatto di ora ha fatto ho fatto io sono piovata falle vedere come tu crei una d'eterno ma per te stessa o per usarlo in altro modo anzi magari crea lo quella base a quella cosa che ti ho detto donnavo c'è un terra secco crea ad eterno mentre tu lo fai lei guarda come tu lo fai ho detta roba e stanna c'è un sacco l'onda topia anzi in realtà non lo fai tu ma lo faccio io no sì sì io sto dividendo gli spazi in qualche modo le si sta occupando del cluster ma può vedere quello che io faccio lei l'ha fatta intanto io sto troppo va sì 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 non ha messo in alto ma visto l'hai fatto ho messo a tanto scurrata l'eterno con calcio lei ha messo lei l'ha messo l'ho messo in alto ok andiamo all'avatar sa che c'è metà fatta la terra sì lo vedo ma finché lo vedo che è come se fosse un un adesivo sopra un tavolo così piegato così piegato testa che squarciano è nata la stola che porta con una clay con un sacco io non date costo ok che fa sì lo saranno tirando via terrasa tre vacca la ruota ok vediamo se da sola fa quello che deve fare cosa faccia mette stamata la strappetta zona da già tanto trapiccio sia tazza trapiccio e applica quello che ha appena imparato e c'è c'è tazzo si chiedono che si chiedono trovato le creazioni attaccate torno ecco l'hai detto vabbè la brittoria tim polacco e sta creando una molto grande rompita crauglietta all'eterno mi sparta un patto tosham è fatto io sto arrivata va bene con queste nuove condizioni c'è ancora qualcosa di energetico nella vita di dorota e traspisata e capacità di fare un carter aspetta cose che stai appoggia meno che c'è una scala narcotrata si è scrollata di dosso tutto ci fosse piaccia scopo ok c'è ancora il capo chiamiamolo così anche se no se ancora frederick c'è la certa freddy dice nelle vite precedente precedenti in modo oggi cosa c'è appoggia lucio sì 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 ma se nelle vite precedenti allora io lo vedo ancora jana d'arcofitta però non in quella veste lo vedo che ha capito come se avesse cambiato ruolo la vita con le tante i rolli sminio sopra ogni sfaio roll a terrasse lui di base era un medico e vedo che non collabora con i campi ma vedo che vada dei pazienti i vieti a terra sono i prezzo e ne spoprazzoglia tantimino si sta metter copro sto dai c'è norma neanche la casa paziente ok quindi ha cambiato una vita vediamo quanti sono le vite precedenti adesso c'è l'esminio sapere c'è teresa pace mail a stavore moderata mille e cinquecento tra si è state chance penso da faccia vibrazione attualna che pratica da rota 185 miliardi stavo cento 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 stascia e per cento 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 e per cento di cervello e però tanto giovanna conosco metto 6,2 i figli cosa fanno sarò se no via da rota sono ancora seduti stanno guardando sono nata la skin secondaria scena quello che i figli nel fisico possono dire alla madre la madre lo saprà cosa dicono invece in etere con la madre tazzo beppo vigere in a plane fisica città roccia titolo che saperlo via cieli per poveri decennata in plane a terra c'è mamma mia allora intanto quando hai detto i figli cosa fanno io li ho visti che guardavano e lo schermo inizialmente mi capita invece sono stato portato come avvigiavamo la pace rinata la cranta mentre poi il più grande si è girato ha sorriso a potente star c'è il più grande sta dicendo che lo sa che spesso l'idea delle preoccupazioni e muovete al star c'è un vero chiasami spravi che stantrovski dice ma è questo anche il bello di avere dei figli alla testa posta tv passata anni a 10 messi messaggio di dorota a se stessa teta terrestre inviato a mosse usata notata però tempo poi aspetta perché il figlio più piccolo dice fa così con le mani fa mamma ti voglio bene anche gli stati che l'ha capata al mozzo senta resta testa movie mamma cohanci possa come usata ma la pila l'hanno appresa ok prima del messaggio sì sì nella prima del messaggio di dimostriamo la pillola e tutta la testa poco casamento picco c'è un crauia fibrazia in farmazia scala mosso e adesso devo dire che sono molto vivaci ci sono molto simpatici interattivi e dicono possiamo scegliere il colore da prendere uno la vuole prendere solo blu e l'altro lo vuole prendere solo rossa dice possiamo che sceglierci colori c'è ma se vedo che scherzano non son parto tazzerosa entusiasmo vani tampa sotto la stampa tazzerosa seri francese prezzo per color dei più chi novità non riesco ma trovista c'erano diciamo che rosso è meglio di blu servono ai slapshot le hanno prese tutte le hanno prese a tutta vic quindi però volevano un po giocare serie tampe coca attacco la mamma è vestita di rosso e dita è vestita di rosso e tu hai una luce rossa diciamo di così però tra gli occhi la grande a terra tag fa una ciavona è detta che stavano c'erano scatua fin frisco possa che pensi che c'erano il colore sono gli occhi di dorota color da notte color fai corto c'erano i boschi non verdi c'erano verdi c'erano e verdi c'erano di gelona voglio un po con una fetta di gelona melone bene viene messaggio ordinale messaggio e cacassi fia da mostrata rotta 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 allora allora dice prima cosa finalmente ci siamo arrivate finalmente siamo arrivati qua ma vi può piersa la sconso totale dotare di smith quanto a totale staccato in punta dice anche se all'inizio rititubante teri e in dubbio se fare questo percorso come vedi siamo arrivate siamo arrivati a concluderlo da contesto data con la città come se dicesse che gliel'ha detto per ricordarle che ogni passo compone la strada e movita pota che anche se lei spesso dorota spesso vorrebbe arrivare da a dal punto a al punto z subito e poi mi ha usato rotta c'è troppo adosette la tecnica sta sperimentando anche nella sua vita che ogni passo ti avvicina a arrivare all'obiettivo croc e dc e da qui possiamo ripartire e muovere stacco punto un'altra cosa per punto 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 ok come la vedi via canta la sfide che sorride la vedo questo ride stringe un po gli occhi un po così come una smorfia per dire per dire sì sì non so comunque la vedo bene la vedo bene bene la vedo che era era etericamente anche un po contratta un po un po chiusa in se stessa ma adesso vedo che si sta proprio allargando come se si allargati si espandesse va bene abbiamo finito tornare in cata vada poverato sì ok allora disconnetti da tutto e tutto